Hello guys, benvenuti in questo nuovo video. Oggi abbiamo un playmate diverso dal solito, uno dei miei preferiti in assoluto che ho anche aperto durante l'unboxing della riapertura del mio canale dopo svariati anni di attività, che nel caso dovesse interessarvi vi linkerò quindi le schede e diciamo ho voluto fare questo anche perché è un po' correlato al periodo del prodotto che andremo ad aprire che è Oscurità Fantasma. Ho acquistato due box ma in questo video ne apriremo solo uno ma in caso che il video dovesse raggiungere un determinato numero di mi piace, un po' abbastanza mi piace andiamo ad aprire subito anche il secondo. Non è l'unico prodotto coreano che ho comprato e questi, nello specifico questo box, l'ho comprato da Jack Store che è un sito appunto italiano che vende principalmente roba con box coreane a buon prezzo accessibili, nel caso vi ringrazio tantissimo anche perché come al solito mi hanno messo il piccolo omaggio qui che apriremo ovviamente insieme. L'altra volta mi hanno messo i cuoricini quindi sto giro mi offendo, ovviamente scherzo. Prima di continuare se vi piacciono contenuti retroformat Edison o Tenguplant o altri appunto formati e anche unboxing relativi a prodotti sia TCG o CG anche abbastanza vecchiotti come appunto Oscurità Fantasma che abbiamo qui davanti, iscrivetevi al canale e magari andate a recuperare uno dei vecchi video in cui appunto apro vari box del genere. Allora io ragazzi detto questo diciamo iniziamo con l'omaggio della casa, andiamo a vedere subito di cosa si tratta. Ecco qua, questo dovrebbe essere, ecco qui Jack Store, il biglietto da visita. E abbiamo, non mi ricordo il nome di questo pack, iniziamo benissimo però appunto iniziamo ad aprirlo. Quindi ok, spero si vedano bene le carte, come al solito. Io i nomi non me li ricordo mai durante i video, abbiamo trovato la rara, questa mi pare che l'avessimo trovata anche durante il box della collezione leggendaria che appunto ha aperto ben 12 box, mi ricordo l'artwork. Allora, quindi iniziamo con il box che dovrebbe essere composto da 40 bustine. Ecco, volevo fare la cosa figa ma a quanto pare sono incapace di farla. Infatti questo è il risultato. Vabbè, cacciamo tutte le bustine. Sono tutte 40. Ok, perfetto. Queste le mettiamo qui per il momento e ci teniamo qui le bustine in vista mentre noi apriamo tutto. Allora, perché diciamo porto questi box anche coreani? Non voglio parlare sempre della questione quello CGT, CG, bla, bla. Magari lo faccio dopo, lo ripeto per l'ennesima volta. Però ragazzi, intanto vado piano piano. Mamma mia che ricordi. Oddio, questo è il samurai maledetto. Stando di trovare il dad, altrimenti si esiste in questa bustina. Comunque, mi perdo sempre il bicchiere d'acqua. Allora, perché vi porto sempre questi box? Perché diciamo, obiettivamente, io il canale porto sempre principalmente Edison, Tenguplant e faccio guide a riguardo. Per quanto riguarda questo, per l'appunto, diciamo che il mio obiettivo è quello di mostrarvi magari alcuni box che possono essere utili per i formati che tratto principalmente. In questo caso, ripeto, Edison e Tenguplant. Quindi faccio una sorta di rubrica in cui vado ad aprire vari prodotti, che siano TCG, OCG, non so, aprire le bustine, TCG, OCG, in cui vediamo assieme, diciamo, il contenuto dei box. E caso che dovessero interessarvi, soprattutto non dovessero interessarvi magari la differenza tra OCG e TCG, possiamo, bellissimo, l'incrociato oscuro, potete vedere direttamente il contenuto. Un Armageddon Knight, figo. Questo magari ce lo mettiamo un po' più da parte perché è un po' più utile. E quindi magari possiamo vedere voi stessi quali box siano più convenienti o meno per il contenuto. Ci sta uno dei box che più ho preferito, delle espansioni, anzi, che più ho preferito magari da avere un dad. Ah, è raro qui il dad. E io, ah, lo voglio ultimate. Raro, signore. Bellissimo. Ecco, questa piccola scoperta. Certo, potrei vedermi spoiler online, però, diciamo, mi piace un po' vivere l'avventura con un po' di nostalgia. Quindi, ragazzi, appunto, vediamo assieme. E uno dei box che più mi interessava, delle espansioni che più mi interessava, è, urchia, d'oro oscuro. Oh, sono scegli tutti i secret, questi non TCG qua, rari. Che più mi interessava, comunque, era DUSA, che era pieno di ultra rare. È vero che c'erano robe completamente fuori dal, 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 persino dal formato 2011, quindi ben lontane dal formato Edison 2010. Eppure, eh, c'aveva tanta robina come le necropale ultra, il JD, il Judgment, eh, abbe, o non so di dire le cose, il Drago Armato Oscuro Ultra, il JD Ultra, eh, Cyber Drago, insomma, tante, tante belle cose che, caso che, appunto, dovesse interessarvi, come al solito, vi linko i miei vecchi, eh, vecchi video. Ora, purtroppo, è un'espansione un po', un po', quasi impossibile da trovare a buon prezzo. Quindi, valutate voi, insomma. Caso che dovessero ristamparlo, fare qualche prodotto del genere, Konami, a me non mi farebbe assolutamente schifo. Anzi, ve lo aprirei super, super volentieri. Sì, sto, volevo la sesta carta. Allora, essendo anche bustine coreane, diciamo che non sono, ehm, nove carte per busta, ma ne sono, come avete visto, eh, cinque, se so contare, e mi ricordo bene. Quindi, uno, due, tre, quattro, POM! Qua manco la rara, e la rara manco è assicurata, a quanto pare. Però, diciamo, obiettivamente, le carte coreane valgono meno rispetto a, eh, quelle, magari anche stesse giapponesi. Soprattutto, in merito a quelle che ne interessano, che sono quelle europee e TCG. Oh, abbiamo la prima foil, che è l'horus oscuro. Molto figo. Ultimate sarebbe ancora più bello. Io ce li ho, infatti, li ho postati nella mia decklist di Sustent Dragon, dell'Hopeless Dragon, ma anche di Sustent Dragon, che, ehm, è già stata caricata sul canale, ha ottenuto un discreto, ehm, successo ed è, per chi non lo sapesse, uno dei miei mazzi preferiti in assoluto. Questa è una carta, ragazzi, molto forte, vi consiglio di tenerla d'occhio in, eh, in Edison, quantomeno. Una Contro Trappold, è molto forte con, con gli osculità, ecco. Però, non so perché, non mi ricordo mai i nomi. Fino a qualche anno fa, magari vi avrei detto, sì, me li ricordo tutti, che ti sei samurai uniti. Bravo, bravo, sì, bravo, sono troppo forte a sto gioco. E, oh, e poi un'altra cosa, una delle mie confessioni brutte, io non ho mai avuto, forse uno Yubel, credo. No, però, per quel che ricordo, non ho, tipo, ho fatto una delle aperture di recente e ce l'ho e non me lo ricordo. Possiamo trovare solo il Gladiator Beast da 1009, che, questo qui, ragazzi, direte, è un giallone inutile, non lo gioco a nessuno. Questo dovreste giocarlo nel formato, quello del rabbit, che è forte, appunto, col coniglio da soccorso. E, oh, ecco, parlo di Yubel, ho sbucato Yubel. Olè, niente. E, appunto, è molto figo, potete fare subito il giallone GB o, appunto, qualche rank 4, perché il coniglio era molto forte per quello. Però, sono quelle giocate spicy, per evitare di giocare, diciamo, il, il, questo era l'ultimo da noi, diciamo, i classici mazzi da meta, andare per qualcosa di diverso. Non mi ricordo se il rabbit team, mi pare di sì, forse è giocabile anche durante il, il meta del, dei Firefist. Oh, non sto trovando niente, ragazzi, veramente niente. Poi, cominciamo a volare i pack. Questi, quando sono ben aderenti, di solito non c'è nulla. Questo, forse, potrebbe avere qualcosa, ma, devo essere sincero, non ne sono, non ne sono sicuro. E che, quando sono pieni d'aria, allora, di base, hanno la foil. E, infatti, questo no. Questo, non me l'aspetto e, adesso, arriverà la foil. Questo si chiama, eh, tecnica del Chiantillo. U Chiantillo, in dialetto. Dove, praticamente, voi dite, ehm, non lo so, eh, non succederà mai, non succederà mai, non succederà mai. Poi, il Chiantillo fa sì che questo avvenga. Eeeh, infatti, tecnica del Chiantillo, signori, spammate in chat, cioè nei commenti. Chiantillo, il Neos dell'Arcobaleno Ultimate. Molto, molto figo. Molto, molto bene. Niente, questo discorso non vale per le bustine di oscurità fantasma. Per quelle della Wave Collection 2, invece, abbiamo trovato, diciamo, la Money Car dell'espansione, invece, è basso come, come argomentazione. E io ho appena piegato una carta, sperando che non ci sia alcuna foil, alcuna foil dentro. Quindi, uno, due, tre, ole, niente. Meno male. L'avevo piegato leggermente il, il pack. Magari qualcuno che è nuovo e chiederà, ma perché allora le carte TCG non, cioè OCG, scusate, le coreane nello specifico, valgono, valgono meno e non è possibile giocarle in, in TCG? Vi diciamo che la risposta, un po', è questa, ma anche perché molto probabilmente dal punto di vista economico, diciamo che Konami non ci guadagnerebbe in, in, in Europa. Che, se no, non, non vuoi entrare in dinamiche più, eh, dettagliate e complesse, perché non sono nemmeno certo della risposta. Ecco, quindi prendete tutto quello che vi dico con le, con le pinze. Poi, perché non lo sapesse, anche il logo è diverso. Comunque, lo scritto a fantasma, wow! L'altro Elemental Hero, Ultimate. Molto figo. Molto, molto figo. Però lui mi piace un sacco, devo essere sincero. Ok, questo pure abbastanza rioso, magari c'è qualcosina qua. No, invece no, scusa. E' osculità fantasma, comunque, ragazzi, è una delle espansioni che secondo, che io personalmente preferisco un po', sapete come il, il fascino del, l'essere dark, come si suol dire, è il fascino dell'oscurità, che oltretutto, mi pare, si trovi qui dentro, non mi ricordo, mi ricordo bene. E soprattutto, secondo me, è una di quelle espansioni che più ha rivoluzionato, ha rivoluzionato il, il gioco in sé. Perché, appunto, abbiamo carte come il, non voglio manco dire il creatore oscuro, ma l'armageddon night, il dark and bad dragon, ma l'isus, non mi ricordo se facesse parte di questa espansione, però, bella, appunto, oscura fantasma, assieme, assieme a luce della distruzione, che potrebbe arrivare sul canale, ma io non vi ho detto nulla, quindi non vedo, magari, di aprire questo presunto pack assieme a voi, che, appunto, è un altro pack molto molto utile per il formato Edison, nello specifico, se, magari, vi interessano i fedeli della luce, ops, ho fatto il saltino, fedeli della luce, che, appunto, sapete che è uno dei mazzi più giocati dentro Edison, ha il suo fascino, ha fatto, diciamo, anche, ha avuto un certo impatto all'interno della storia di Yuki, il mazzo, e che vuoi dire, di base, il gd, poi, è figo, e soprattutto, soprattutto, il judgment dragon, lo trovate, altrimenti, all'interno della, di luce della distruzione, che, se, appunto, vi piace, come rarità, e, personalmente parlando, è la mia preferita, vi consiglierei di acquistare per, per l'appunto. Allora, continuiamo noi con la nostra apertura. Ok, questa, poi, ragazzi, io le ho ordinate, vabbè, in inglese, cioè, in lingua europea, mi verrebbe da dire, perché, appunto, una delle decklist che vi porterò, poi, quando sarà il... è vero, non ho ancora caricato contenuti inerenti al formato Tenguplant, ma prometto che ve lo farò, ragazzi, e che sono, veramente, pieno zeppo di lavoro, pieno zeppo, siamo in una fase un po' particolare, soprattutto, non abbiamo trovato ancora una secret, quindi, sì, che è una fase un po' particolare, questo, questo box, eh? Eh? Dov'è la mia secret? Eh? Eh? Eccola la mia secret, una gialla. Quindi, cerco sempre di caricarvi, anche per essere un po' più regolare con i video, uno a settimana, poi, con qualche eccezione, caso che, appunto, dovesse uscire, magari, un'espansione, proprio, quel giorno lì, sperando che mi arrivino in box, un certo tipo, ecco, l'usione oscura, però, ripeto, difficilmente vado a comprare, proprio, le ultime espansioni, uscite sul, 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 sul mercato, almeno, eh? Per ora, semplicemente perché, per il fatto che non ci sto guadagnando letteralmente nulla, lo faccio per piacere e per nostalgia e per aiutarvi. Questa, non mi ricordo mai come si chiama, ma è una delle mie carte preferite del, del gioco. Lo so, può sembrare strano, ma, è vero, una delle carte che più amo per, eh, per l'atto. Questo è abbastanza arioso. E lo sto dicendo, tipo, per la quarta volta e ogni volta che lo dico, non ci trovo nulla. Magari questa volta buona, olè, 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 e niente. Ogni volta che è arioso, c'è lui. Tipo, nell'atto, dovete spammare arioso. Ecco, non quello che vi ho detto, primo, il chiantillo arioso. Che non si trova mai un cazzo. Chiantillo appena menato. Vediamo se ha funzionato. Chiantillo, no, il chiantillo non ha funzionato. Ragazzi, mancano veramente pochi pack e, obiettivamente, questo box ha fatto un po' schifo. Ha fatto un po' schifo, ma, a parte per loro, non so manco che cazzo sia. Vediamo un po', magari sono le ultime bustine, quelle più scottanti. No, per niente. Niente, ragazzi, mi sto un po' abbattendo. Quindi spero, magari, che con il prossimo box, che andremo ad aprire, ripeto, in un altro video. Possiamo trovare qualcosina di me. Oh, una super. Minchia, ma la prima super? Cioè, che manco so come si chiama questa. Ok. Abbiamo solo quattro pack e solo due ultimate. E nemmeno una secret, che quindi, a quanto pare, non era come dall'onetcg, non è assicurata. Questo, via. Andremo un po' più lentini. Ok, abbiamo l'altra super. Almeno, vedete come, in un box, avere un'altra, un'altra foil. Non è che fa schifo, c'è un'altra foil, che poi è la foil più bassa, praticamente, di valore. Ecco, oh, ecco, cioè, mo' sto a trovare solo super, praticamente. La super poli. Questa pure è un'altra carta molto, molto forte. Quindi, ultime due espansioni, ragazzi. Incrociamo le dita per la ultimate. Felix ha troppo più culo, quindi la prossima volta gli dico via a casa, che magari mi ha aprito i pacchetti. Io ho trovato solo il Mago di Ravel Vice, ma lui, effettivamente, cazzo, ho trovato il mondo. Oh, solo super. Dammi una gioia, almeno tu. Una gioia con una carta bella. Ultimate. Una secret, non lo so, uno Jubel, qualcosa. Ma il Dark Reffer, effettivamente, non esiste qua dentro? Però, secondo me, ragazzi, qua, a parte di scherzi, qua, non c'è nulla. E invece c'è un altro Logos Oscuro. Che, ripeto, molto più figo. Ultimate, però, diciamo, possiamo lamentarci? Sì, perché abbiamo trovato solo un Dad, nonostante fosse, fosse, fosse raro. Però, vabbè. Quindi, queste sono le carte che abbiamo trovato nel complesso. Questa non mi ricordo come si chiama, nemmeno questa. Questa è bene o male. Come vedete, sono carte relativamente utili per il formato Edison. Nello specifico, diciamo, se volete montare, appunto, l'Opless Dragon. Però, ovviamente, vi invito a acquistare il box, qualora, appunto, voleste farle. Siate nostalgici, come me, nel vivere, nel privito di, di sbustare. Però, paradossalmente, penso che con pochi euro, riusciate a farvelo anche alla minima. Perché lui è stato ristampato, lui è stato ristampato mille e mille maniera. Anche lui è riuscito a fare l'Opless Dragon veramente con pochissimi euro. Quindi, questo era tutto, ragazzi, da questo unboxing coreano. E ci vediamo con, magari, un prossimo video, sarà una decklist o direttamente un altro box, ma intanto che arrivino ci vorrà un pochettino. Quindi, può essere che andremo a fare direttamente un'altra decklist. Caso che, magari, Cartrader, o meglio, non Cartrader, poverino. Caso che il venditore riesca a far arrivare le carte che ho ordinato per tempo. Quindi, grazie per la compagnia e ci vediamo al prossimo video. See you next time!